ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale come vedete siamo di nuovo su football 2024 dopo qualche giorno di riposo più giorni distacco torniamo con calma sono molto contento perché il video che ho pubblicato su helldiver è stato comunque visto non mi aspettavo le visualizzazioni che ha fatto mi avete sorpreso e vi ringrazio davvero di cuore per questo supporto quindi non è l'unico video che uscirà ne usciranno altri quindi mi raccomando continuiamo a supportare appunto il contenuto che è stra importante non è detto che portano soltanto quel gioco lì ma magari ne porterò qualcun altro c'è in programma anche lo spacchettamento dell'album di figurine insomma ci sono un sacco di cose che voglio portare per intrattenervi tornando al football 2024 adesso non vedere ipotu non vedere i giocatori sono usciti andare a vedere gli eventi i soliti che ripropongono ciclicamente e poi c'è qualche piccola novità riguardo la campagna g league e quindi c'è tanto da parlare mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e lasciate sempre un bel like di supporto giusto per informazione gruppo telegram tutto sotto link in descrizione e soprattutto il mio canale twitch dove vado spesso e venti anni live e porto e football ma porto anche al diver insomma ci intrattiamo ci divertiamo tantissimo e quindi se volete vedere live contenuti test eccetera eccetera in diretta quindi tagliarmi sul mio canale twitch ripeto tutto sotto link in descrizione a parte che hanno messo un nuovo pool con 100 giocatori dei j league per festeggiare questa campagna che hanno proposto stavolta e ipotu eccoli qua con vediamolo un pochino giocatori booster odegaard van dyke jonathan david si e poi ci sono oilund carlos augusto lucas hernandez cubo non ci sono altro gioco e svilare e insomma è già svilare potrebbe essere interessante io tanto ce l'ho garantito quattro stelle garantito portiere esce per forza oggi guarda tra le linee con il booster sul controllo palla sulla finalizzazione potenza tiro e contatto fisico uno specifico tiro più tre gran giocatore tutta tecnica un po lento vi dico la verità è alto 178 controllo corpo 83 per 85 in game con lo stile gioco dell'allenatore non è male non è male la bella carta sicuramente interessante visto poi la passiva che ha a disposizione può fare il trequartista il cc e l'esterno ovviamente vi sconsiglio di metterlo in quest'ultima posizione perché veramente troppo lento non vedere le abilità veronica tiro salire lancio lungo colpo di tacco tiro di prima passaggio di prima passaggio filtrante costa liberato non luca e leader ci sarà una volta in cui metteranno magari uno adegarde con un doppio tocco anche perché è tecnico al cento per cento e non mette un doppio tocco avrete scandaloso bella carta andiamo a vedere invece van dyke con il booster sul colpo di testa sulla finalizzazione sul salto e su contatto fisico è una carta particolare comunque discretamente veloce per essere van dyke non è un fenomeno difensivamente ci sono state carte di van dyke molto più solide difensivamente guardando le statistiche lo potete capire non ha manco il booster sulla sulla statistica difensive quindi c'è la sua finalizzazione ma che c'entra gioco aereo più tre l'abbiamo appena visto ha l'abilità sono colpo di testa passa a giocare di brato passa a scavalcare marcatore intercettazione muro dominio palle alte scivolato i disimpegni compati con leader probabilmente è una delle persone più veloci di questo giocatore ma sicuramente non il più efficace difensivamente parlando oilund opportunista di non c'è il booster carta molto troncheggiante velocissimo io entro che già perché altro e 92 controllo corpo 66 ma che vada fa 68 e secondo me comunque girarsi fa una fatica immane provare rispetto a un haaland per dire potrebbe essere leggermente più veloce è alto nel 91 ma c'è colpo di testa 73 finalizzazione 86 vediamo le abilità svolta secca giro dell'istante pallonetto minato tira a scendere fine edizione acrobatica colpo di tacco tiro di prima e passaggi di prima carta interessante ma non fenomenale eccolo qua david opportunista al bus sulla velocità accelerazione controllo corpo e resistenza non è forte tecnicamente perché ci ha posto lo stretto 75 controllo palla 81 con del bine 77 però lanciato in profondità non è neanche malvagio agilità più tre abbiamo appena visto dove si upa le statistiche abita il giocatore doppio tocco svolta secca taglio le spalle giro colpo di tacco tiro di prima passaggi di prima strana giro specialista di rigore astuzia e dominio palle alte può fare il trequartista la seconda punta la prima punta vi consiglio di mettere la seconda punta prima punta ragazzi perché metterlo trequartista con questi parametri di passaggio proprio non vi risolve assolutamente niente e allora adesso andiamo al giocatore che si è più forte del pacchetto voi direte ma l'overroll è più basso rispetto a un odegaard è un terzino difensivo non è nello frontale extra non è nient'altro non è un difensore è proprio un terzino difensivo e guardate le statistiche che ha sulla difesa e sulla forza fisica guardate un pochino e ci ha passaggiato 81 colpo di test 82 coinvolgimento difensivo 90 aggressività tantana insomma è un giocatore che secondo me ha un potenziale incredibile e se guardiamo le statistiche lo capiamo già di per noi non vi soffermate sempre soltanto sull'overroll perché si è vero il più alto è meglio era un giocatore ma in questo caso bisogna vedere come sono distribuite le statistiche a questa carta è uno dei terzi diversi più forti del gioco perché comunque veloce e trovarlo sarebbe una grandissima un grandissimo colpo da vedere l'abilità il giocatore colpo di testa tiro a salire lancio lungo marcatore intercettazione 1 dominio palle alte sciguate disimpegno acrobatico e spirito combattivo ragazzi è un cartone veramente chi riesce a prendere questo giocatore fa un affare solido difensivamente e soprattutto buono anche in forza fisica veramente buono in forza fisica e carlos augusto terzino offensivo già vedete le statistiche cambiano rispetto a lucas hernandez è abbastanza veloce a tanta resistenza ma difensivamente quasi nullo e soprattutto anche in attacco non ha un buon dribbling ma c'è un po stesso strato che fa paura nel senso cattivo e non mi sembra niente di che cubo alla prolifica giocatore stra buggato quindi anche questo è un colpaccio quello che lo trovate perché comunque giapponese con a me giapponese e questi giocatori sono stra mega buggati come dicevo prima e sarà devastare ammessi questo giocatore ve lo dico già andate vedere le abilità doppio di tocco sombrello taglio le spalle giro controllo il suolo giro all'istante tiro di collo passaggio di prima passaggio filtrato esterno giro e intercettazioni non so cosa serve intercettazioni per una carta del genere può fare il tre quarti sarà secondo punta e l'esterno secondo me può fare tutti e tre tutte e tre le fasi contando anche che può fare anche il cld ma io lo metterei più un verso improntato verso l'attacco piuttosto che piuttosto che verso il centrocampo dove magari perde troppa forza troppa stamina anche perché non è a molto di resistenza quindi vi direi seconda punta esterno perché anche tre quarti sta si ci potrebbe stare però la vita di passaggio la vita di una social passaggio filtrante quindi in ogni caso potrebbe anche essere messo come come tre quarti sta quindi esterno seconda punta oppure oppure tre quarti sta non deve dire marcos iorente punta opportunista ma sapete che non sapevo sta roba non la conoscevo questo tipo di cosa velocità 90 resistenza 90 fino adizioni 84 è alto 184 voi direte scherzate ma guardate che non è maravaggio cioè anche difensivamente copre bene quindi un giocatore che tra l'altro nel caso comunque andassimo a girare cosa può fare tutte quasi tutte le posizioni in campo può fare il mediano il ccc il tre quarti sta seconda punta la punta all'esterno destro ceci il cld e il terzino destro quindi clamoroso questo gioco e quante posizioni in campo possa ricoprire guardate che non è da sottovalutare non è veramente da sottovalutare questo giocatore abitare il giocatore a girare istante tiro a scendere attivo di prima passaggi di prima passaggio filtrante esterno giro marcatore tornate intercettazione e spirito combattivo nella prima fase di pressing potrebbe anche essere un velo dito nel sedere pensate un po che vi dico non è male giò gomez onnipresente non mi sembra fenomenale anche perché difensivamente normale è abbastanza veloce a otti ottimi a buoni parametri di passaggio non mi sembra fenomenale c'è di meglio secondo me per quanto riguarda il ruolo di cc abitare gioco doppio tocco colpo di testa tiro di prima passaggio calibrati a scavalcare intercettazione scivolata di manca marcatore per ogni presente per me è importante come abilità non mi dice assolutamente nulla pasalic onnipresente anche lui e anche di presente assolutamente nulla non mi fa impazzire a buoni parametri di passaggio a terra ma poi bisogna vedere insomma e poi alla fine c'è svilare portiere offensivo salto 70 va bene ha fatto una parata che salto è un coniglio però vabbè fa niente un 89 d'altezza riflessi 90 parata 80 distribuite belle statissime quello che si è visto nella partita contro il frosinone si 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 vede proprio comunque preso 83 e non è vero perché fa delle prese in uscita che sono clamorose io sono più sicuro con lui piuttosto che un ripatricio però insomma estensione 89 ha fatto una parte della madonna io avrei dato qualcosina in meno sull'estensione è un pochino di più su presa perché comunque solo meta è parata però vabbè insomma è un portiere di quattro stelle non ci si può aspettare più di tanto per quanto mi riguarda io punterò a prendere lui il lucas hernandez non voglio nessun altro se nel caso uscirsi sarebbe veramente tanta 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 roba allora nel complesso sono anche qua come ogni settimana sono di poto forti e poto interessanti che possono essere utilizzati secondo me nelle squadre di oggi e altri invece dove non c'è senso logico di esistere per dire faccio un esempio stupido van dyke a statistiche difensive davvero inutili per quello per il gioco 3 che è non mi si può dire che sia forte questa versione per me sono state persone molto più forti e poi c'è carlos augusto che non mi fa impazzire mario pasa dice gomez mentre sono interessanti marcos iorente per la posizione che ha lucas hernandez o the guard david giotre molto veloce ma chi è guarda al piede comunque sappiamo che non è il massimo e quelli che vorrei io da questo poto sono appunto hernandez svi larra e se vuole lasciarmi per il gusto di provarlo anche iorente non sto chiedendo nient'altro che non sto chiedendo altri giocatori o the guard david sono quelli bustati che non mi interessa però se mi vuole lasciare hernandez a me fa soltanto piacere ritorno l'evento team play fan per quattro giorni consecutivi quindi bruciate stevento dagli ragazzi perché se poi c'è gente che continua a dirmi e geneva perché hanno tolto l'evento copra ragazzi ormai è una scelta loro che il team play fan lo mettono quattro giorni a settimana piuttosto che sette perché per quanto mi riguarda c'è un problema con i server e questo evento che in tasa e non poco io lo penso poi magari non è così è una scelta loro per farti stare lì attaccato al gioco per farti prendere ricompense però per quanto mi riguarda secondo questo evento un pochino i server gli appesantiva poi hanno messo a vedere il Japanese club questo è un evento dove bella con quella grafica si dedicano molto con le grafiche c'è da dire la verità proprio il resto assolutamente niente e quindi qua ragazzi ovviamente vi portare a casa del 50 monete football e tre programmi aggiunta abilità e quindi ho messo questi due eventi quest'oggi e poi ho messo il Japanese club come al solito questo è l'evento autentico dove mi fate l'evento qui mi puoi portare a casa l'accordo al buio no questo è il gp e gli elementi questo invece devo portare a casa l'accordo al buio questi due eventi io devo ancora fare l'english club dove mi porto a casa il programma aggiuntabilità tanto ragazzi io sto continuando ad aprire programmi aggiuntabilità ma continuo a darmi soltanto sempre le stesse animazioni pensate che avevo tre programmi aggiuntabilità e in tutti e tre non sto scherzando perché alcuni li ho anche sovrascritti ho trovato tre tre colpi di tacco tutti e tre consecutivi la presa in giro però ragazzi non è che non ve lo volessi dire ma non è che c'è molto nel senso sì aggiornamento 3.1 è un aggiornamento palesemente migliore lo si pensava anche quando ci è stato comunque detto che sarebbe arrivato non mi aspettavo niente di che la 3.4.0 che arriverà tra qualche tra qualche settimana non so la data ma penso a marzo quella dovrebbe essere un aggiornamento che svolta un po il gameplay ad oggi non credo che sia cambiato qualcosa sono state aggiunti o aggiornati i dati seguenti divise palloni fondali media cartelloni pubblicitarie bordo campo modifiche generali applicate per mitigare o eliminare del tutto i seguenti bug è una questa è una notifica sono parole buttate a cazzo proprio perché non ha senso questo per eliminare del tutto i seguenti bug più sto gioco che in tutti gli altri video giochi ho giocato online proprio questo è il gioco che ha bug e animazioni marcia non finire comunque proprio una notifica per diti stai tranquillo che abbiamo fatto qualcosa quando in realtà non è vero perché lo mettono ogni ogni aggiornamento ogni notificato aggiornamento e non cambia mai niente comunque questo era ecco perché non ve l'ho detto all'inizio che non c'è niente da dire e basta ragazzoni penso che ah no aspetta mi sono dimenticato di dirvi che è arrivato questo la campagna ripresino gratis dei punti progresso quindi avete abbiamo 14 giorni per liberi di poter comunque resettare le build dei giocatori e quindi divertirci a provare di svegliate posizioni tanto comunque non ci costa niente fatelo ora con i giocatori che magari non potevate resettare perché comunque questa cosa è straimportante lo fanno una volta ogni tanto e sennò vi costa sempre troppo veramente troppo al livello di gp perché comunque secondo me è tantissimo però è stata una build anche chiede 600.000 gp è follia però vabbè insomma sono scelte di konami e va bene lo stesso quindi fatelo adesso che avete la possibilità di risettare i punti di progresso a zero che è straimportante detto questo non c'è più niente da dirvi ragazzi vi ringrazio sempre per il supporto al canale per tutto quello che fate ogni giorno per me è importantissimo continuiamo così a crescere prossimo obiettivo 4.000 iscritti speriamo di arrivarci per giugno grazie ancora ci vediamo in live come sempre buon game a tutti ciao ragazzi grazie a tutti